Ecco ricominciamo la nostra ricerca di funghi qui sul sentiero il primo edulis dell'anno è bellino lo stacchiamo ecco qua è il primo porcino edulis ancora qui sul sul sentiero questi altri due sono spettacolari belli raccogliamo il primo ecco qua raccogli lo fatti ecco poco più su altri due uno qui un altro qui poi li raccolgo ora li lascio qua un attimo perché la patrizia ne ha trovato un altro vado da lei e poi torno ecco guardate che bel porcino un bellissimo due sono il fratello raccogli lo fatti e noi attaccato cosa vuoi lasciare ok allora sto andando a raccogliere quei due di prima sono questo uno e due belli cicciotti freschi freschi qui ce n'è un altro oppete bella ok è pieno però sono piccoli piccoli un altro un altro piccolo e qui ce n'è un altro peperò si dai è abbastanza grande ciotto sotto sempre nella stessa zona un altro ancora bello anche questo e vai anche tu nella cesta qui ce n'è un altro un po' piccolino vero dai va bene anche la mia mano che è grande ecco solo in questo punto qua è un po' anche più giù abbiamo raccolti già questi una quindicina di minuti e la giornata è interessante ora guarda tu dove è cresciuto è incastonato voglio romperlo è proprio incastrato e l'ho rotto vabbè pazienza che devo fare incastrato sotto sotto il sasso guarda dove è bello è venuto già pulito fuori metterlo nella cesta guarda tu come sbuca sono proprio oh per te bello anche questo bellissimo ecco facciamo una pausa acqua lì in quel punto lì l'intrevisto con uno ora vado a raccoglierlo è quello? si si è quello ecco andiamo a raccogliere quello che avevamo visto prima ma effettivamente sono due ce n'è anche un altro qua padrizia sta cercando lassù ecco raccolti non sono di grande taglia però sono belli freschi freschi ce n'è altri due nascosti belli ora li raccogliamo ecco due boccette sono freschi freschi carini belli qua ce n'è un altro bello anche questo è per stessa taglia qua ce ne sono ok ce ne sono tre uno due due e tre questo piccolino lo lascio ecco qua ce n'è il primo su c'è l'altro un altro qua tre e quattro oggi è una giornata memorabile dopo tanto tanto tempo finalmente è l'inizio di qualcosa di positivo vediamo niente e noi continuiamo abbiamo trovato uno qui bello ora lo stacco ve lo faccio vedere bello ok noi proseguiamo anche questo ci stiamo divertendo moltissimo bello bello qua ce n'è un altro che animale gli ha rotto la testa però va bene eccoci qua dopo circa quattro reti di camminata questi sono i funghi che abbiamo trovato saranno circa due kg dire qualcosa porcini un po' di filferli ritorneremo qua il 15 di agosto sicuramente perché diciamo ci aspettiamo la buttata continui vi ringrazio di aver guardato questo video e al prossimo video vi ringrazio 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 vi ringrazio